Il nome è quello di Igor Protti, autore di una triplette. Il 37enne Goledor Toscano è bravo a finalizzare una rapida ripartenza innescata da Ciara Mitaro. Poi ancora bravo a sfruttare al meglio i suoi 171 centimetri con un colpo di testa su calcio d'angolo. Il 3-0 è anche la sua diciassettesima. Ora è lui il capocannoniere della serie.